Sulla base dell'esperienza finora consolidata come centro, qual è il risultato più interessante per far sì che questa mediazione possa consolidarsi e entrare anche un po' quella che è la strategia giudiziaria, quello che è il processo, quelle che sono le norme in vigore attualmente? Allora, sicuramente la possibilità per l'autore di reato di avere una consapevolezza piena dell'accaduto, di poter riparare al danno commesso non solo nei confronti della vittima del reato ma della comunità tutta. Quindi un processo di responsabilizzazione eccellente da questo punto di vista. Per la vittima la possibilità di aver restituito dignità al dolore e di avere una vera e propria riparazione sia simbolica che materiale a quello che gli è successo. E ritiene che sia significativo che questo deve avvenire al di fuori del processo per dare più una valenza educativa? Assolutamente sì, perché il processo comunque ha una struttura giudicante. La mediazione è una struttura assolutamente non giudicante, riservata a convidenziale, che assicura una neutralità che è doverosa garantire alle parti coinvolte nel conflitto.